Padre, un peccato gravissimo, desiderato l'uomo di un altro per tutta la vita. Tutta una razza, tutta una razza, ma non è possibile. Io come mio fratello abbiamo sempre professato il principio evangelico, meglio dare che ricevere. È proprio un santuomo, un suo fratello. No, è un pugile. Meglio dare che ricevere.